Il seminario Sport e Innovazione del CONI, in questa scuola molto vivace, è stata un'occasione per approfondire le potenzialità che tutto il mondo sportivo può avere per l'Italia e anche in Europa. Da parte mia ho portato l'esperienza di una cooperazione attorno alle Alpi che unisce 7 paesi e 48 regioni europee e che naturalmente è un laboratorio ideale per forme innovative di cooperazione sportiva. Anche perché come sappiamo l'Italia è impegnata in molti appuntamenti sportivi e abbiamo tra parentesi il sistema impegnato su Cortina Milano 2026 e quindi siamo presenti nelle Alpi a pieno titolo.